Buonasera a tutti, oggi abbiamo Gerardo Bonomo e finalmente Felix Bilsen. Non sono le 10 del mattino, sono le 22.03, tanto è fuori fuoco quindi non ti preoccupare. Sono le 22.03 dell'11 luglio anno Domini 2019. Non abbiamo ancora finito di lavorare, e beh, qual è il problema? Nessuno? Nessuno, bene, allora intanto grazie della serata molto interessante, peccato che c'è stato questo sciopero dei mezzi che alcuni non hanno avuto il coraggio di venire, ma li faremo un'altra volta. Penso che sia piaciuta parecchio questa idea di ritrovarsi tutti fotografati, 16, cos'erano? 18? 16, no, 14. 14 persone, tutte fotografate su pellicola. La pellicola sviluppata con la vecchia tank Alfa Rondinax con un monobagno a G+, giusto? Linea a G+, in 6 minuti. Questi signori, da che hanno ricevuto, da che sono stati fotografati? A chi hanno visto il negativo hanno trascorso solo 6 minuti, dopo 6 minuti il negativo era già pronto per essere stampato. Quasi un record. Bene. Ma intanto Felix, secondo te che fenomeno è questo un po' ritorno, cioè un aumento di sensibilizzazione verso stampa, cioè proprio pellico, cioè scattare… Il fatto di ritornare un po' indietro, non è poi neanche un tornare indietro, secondo me nella fotografia digitale e analogico, cioè andare a contrapporre le due cose, secondo me è sbagliato, nel senso non è un ritorno dell'analogico, se vogliamo l'analogico non è mai morto, si è tentato a livello commerciale, industriale di ucciderlo, ma non è funzionale non ha funzionato. Certo. No, l'importante secondo me, e sono due linguaggi come diceva giustamente Gerardo, sono due linguaggi diversi. I giovani, cioè chi non ha lo smartphone, chi non ha internet, chi non ha qualsiasi cosa tecnologicamente avanzata, eppure soprattutto i giovani hanno questa curiosità, cioè usano quella pellicola proprio perché è qualcosa di nuovo per loro. Certo, certo, quando stanno scoprendo… Stanno scoprendo, perciò queste sono dei cicli nella vita, noi ne abbiamo visti di cicli nella vita. Pur non essendo donne abbiamo visto un sacco di cicli decisamente. certamente è una situazione di nicchia, è chiaro che la pellicola da un punto di vista di divulgazione a livello diciamo numerico non ha più nulla da dire, perché il digitale dà nettamente di più, è più immediato. Se andiamo a vedere la risoluzione, andiamo a vedere tecnicamente, è sicuramente tecnologicamente più avanzato. Però appunto è un diverso linguaggio, è un diverso modo, è una diversa estetica, ho delle variabili incredibili, perché se pensiamo che abbiamo almeno 30-40 pellicole, parliamo solo di bianco e nero, non mettiamo neanche il colore, abbiamo 30-40 pellicole diverse, abbiamo 30-40 sviluppi diversi, abbiamo variabili infinite, ognuno veramente si può ritagliare un suo modo di espressione della fotografia. Questo magari nel digitale non è così, perché tu hai già delle cose pre-confezionate. E qui ti ritagli poi una cosa, nella quale i giovani sono abbastanza digiuni, che è la matericità e il possesso. Sono nati con, non si possono fare marchi, sono nati con la musica addosso, questa musica virtuale, non sapevano che cos'era un 33 giri, adesso è ritornato il vinile, il possesso del vinile, della copertina, il possesso della negativa, il possesso della stampa, il ritorno alla matericità e i giovani hanno capito immediatamente. Perché il fatto che sei giovane, anche se si dice ebe frenico in greco, che deriva da ebe giovane, fren frenosmente, ma mica tutti i giovani sono ebe frenici, anzi perfino noi non eravamo ebe frenici quando eravamo giovani, quindi il fatto che sei giovane vuol dire esattamente il contrario che sei un ebe frenico, sì. E la matericità hanno capito che è fondamentale, qualcosa che mi ancora su questo delizioso pianeta. Comunque, io vorrei fare anche questo interessante, è che Gerardo sta facendo anche questo corso, cioè proprio insegnamento ai giovani o non giovani di sviluppo. Poi, Fenix ha ricominciato, ha cominciato a fare commercialmente, professionalmente sviluppo della bianco e nero C41 e, cosa importante, E6, cioè sviluppo della E6. E6 veramente non è giusto. Esattamente. Ma anche l'E6. Esattamente, perché io ho abbandonato un bel momento l'utilizzo delle diapositive perché non c'era una, quantomeno, a Milano e che potevo fidarmi di sviluppo E6. Cioè, è stato un, diciamo, un grande, lungo periodo, tragico, tragico, perché io non potevo, diciamo, scattare con le diapositive perché non potevo fidarmi di nessun lavoratorio. Eh sì, l'E6 è un procedimento difficile, noi ce ne siamo resi conto, consapevolmente, incoscientemente, non coscientemente, incoscientemente abbiamo detto, facciamo anche l'E6, chiaramente ponendo determinati paletti, cioè dicendo, uno, dobbiamo avere una macchina relativamente piccola e flessibile, due, dobbiamo avere una chimica che è estremamente costante e perché la cosa importante è ottenere un buon risultato, un risultato ottimale, perché rispetto al negativo, negativo tu bene o male, la via positiva o è buona o è da buttare via. Certo. Senza dimenticare che il buon Watanabe, quando era un ragazzo, usava il Kodachrom, Kodachrom, questo andava, e lo usava sul suono, sulla madre patria giapponese e lo mandava sviluppare Hawaii, alle Hawaii. Incredibile, incredibile, incredibile. Ma non era un problema. No, ma è straordinario però. L'attesa è la lunga. L'attesa è la lunga, però straordinario. Certo. In Europa veniva sviluppato a Stoccarda quello amatoriale, a Parigi e a Crissie vicino a Lausanna, a livello professionale. Certo. C'erano tre laboratori, a parte poi il Regno Unito che non possiamo considerare, né prima, né tanto più, tanto meno adesso, un paese europeo. Comunque, sul suolo europeo c'erano tre laboratori che gestivano tutto il Kodachrom. Certo. Bene, allora, oggi è già tardi, però, e quindi rimandiamo un'altra intervista a voi due, o anche a Pevich da solo, anche da Gerardo da solo, però io vorrei altre chiacchierate. Certo. Altre chiacchierate. Noi siamo a esposizione. Ah, sì? Mai a sottoesposizione. Perché? Perché noi, bianconeristi, preferiamo sovraesporre che sottoesporre i negativi. Noi siamo a sovraesposizione. Quella brutta abitudine. Cioè, brutta abitudine. Buon guata. Meglio trovarsi sotto l'ingranditore un negativo sovraesposto che un negativo sottoesposto. Questo lo so. Cioè, però basta saperne anche sviluppare. Ci sono anche dei, anche buon motivo per sottoesporre, poi sviluppare di conseguenza. Certo, correttamente. Lo sai. Poi ci possono fare tre scatti. Uno, come dice, l'esposimetro, uno più e uno meno. Ma io sono, cioè, proprio, molto avaro, quindi tre scatti non lo faccio. Tu aspetti, io, da 36 pose, cioè, devo tirare fuori 39 scatti. 39 scatti. 39 scatti. L'ultimo sulla coda, quindi, praticamente. Certamente. Mi fa trovare soltanto fuoche spiaggiate nella fine. No, no, all'inizio, cioè. Ia, cioè, proprio, è sicuramente quello dell'inizio. Esatto. Eh, sì. Comunque, come ci siamo raccontati non tante settimane fa, che nel frattempo si sono fatte le 22-14 minuti, muovi in Vietnam, la fotografia rimane solo ed esclusivamente e, innanzitutto, amore e passione. Il resto sono chiacchiere distruttibili. E quindi va bene anche digitare. Assolutamente. Certo. Amore e passione. Alla fine, cioè, sono supporto, no? Sì. E quindi, cioè, va benissimo anche dare erotipia. Che erotipia? Noi, indipendentemente che siamo appassionati, professionisti, fotoamatori, qualsiasi cosa utilizziamo, noi immortaliamo la realtà. Certo. E non è una cosa da poco. Certo. Noi immortaliamo le persone. Noi facciamo in modo che la gente diventi immortale. E' una magia. In un certo senso è una cosa meravigliosa. Meravigliosa. E' vero. E rendiamo visibile qualcosa invisibile. Assolutamente. Sì. E lo consacriamo ai posteri. E poi c'è appunto la condivisione di queste immagini. Esatto. Stampiamo qui. Bisogna ne stampare. Bisogna... Allora, parlando soprattutto di pellicola, la fotografia non è tale finché non ce l'hai sul foglio di carta. Hai ragione. Perché è bello scattare in pellicola, ma è poi veramente... Il finale è baritato. Il finale dovrebbe... Esatto. Assolutamente. Però anche nel digitale io dico sempre comunque dovete stampare. Ovviamente. Perché è bello vedere le foto sul telefonino, cioè sullo smartphone, è bello vederle a video, è bello, è tutto bello. Però il fatto di condividere e di toccare, proprio, ritorniamo al discorso, la tericità della cosa, è veramente importante. Perché il tatto e l'occhio, diciamo, va in movimento il cervello, in un certo modo. Perché se io tocco una cosa, ho un contatto fisico, ho un contatto visivo, cioè, in pratica vado a rimettere, cioè, utilizzo i miei sensi. Beh, c'è anche la parte olfattiva, i profumi degli acidi, i profumi dell'emulsione. Esatto. Esatto. Tra un mese, poco più di un mese, noi apriamo un nuovo negozio. Ci sarà un angolo, self-service, tutti coloro che vengono potranno fare gratuitamente una stampa gratis. Perché quella... cioè, l'idea di un chioschetto, angolo stampa, tu ce l'hai, non so, una scheda telefonica, un file, va benissimo, o un cellulare, noi prepariamo un angoletto che tu vai lì, stampi da solo e porti a casa stampa gratuitamente. Ho come la sensazione che sarà una parte del tuo negozio abbastanza, come dire, frequentata. O come quest'idea, francamente. Sì, io vorrei che sia un angolo frequentato. Ebbè, lo sarà per forza. Perché questo è uno dei piccoli... cioè, come offrire un caffè. Cioè, ogni qualsiasi cliente che viene, cioè, non che io voglio offrire dieci caffè, no, dieci, magari, pari, ma una stampa, un caffè, una bottiglia d'acqua, va bene, io ti regalo. Perché se questo, se diventa un invito di voler stampare anche fotografia fatta con una cellulare, ma materializzi, porti a casa una stampa. Esatto. Non è come solo trabuggiare un caffè, sono d'accordo. Sì. Una cosa che resta, che rimane. E così? Cioè, ci saranno tanti che verranno intanto e si siedono, leggono il rivista e bevono il caffè e stampano una foto. Straordinario. Straordinario, no? Come il Dena. Assolutamente. Assolutamente. Bene. Bene. Grazie, cari amici. Bocca al lupo. Crepino. Viva. Viva lupo. Buonanotte, mondo. Ecco. Sì. Mi sa che andiamo tutti in caldo oscuro, fra il po'. Sì, sì. Sì, ma bene. Ciao. Bene, arrivederci. Buonanotte. 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 Grazie a tutti